Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di sabato 29 agosto 2020 sul canale di 17 di fanno tv si apre la giornata con l'informazione in diretta in diretta per sfogliare i giornali che come sempre troverete in edicola e abbiamo nel nostro touchscreen come sempre però prima andiamo a vedere il santo del giorno oggi è un santo e qui prendo per in prestito una frase che è molto bella a mio parere scritta da don luigi maria epicoco questa mattina nel suo commento al vangelo ovvero la frase di chiusura che è questa oggi la chiesa ricorda la passione di san giovanni battista san giovanni battista e quindi oggi è la festa di un santo che ha letteralmente perso la testa per dio il sole è sorto alle 6 30 tramontano alle 19 51 cambia il tempo cambia il tempo nei prossimi giorni ultime ore di sole anche sulla nostra regione oggi cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento nei valori minimi ma anche nei valori massimi c'è vento a regime di brezza lungo la costa ma domani cambia il tempo eccolo qua 30 di agosto con precipitazioni rovescio temporali sparsi sui settori interni in locale estensione verso la fascia costiera e localmente i fenomeni potranno risultare intense e le temperature minime sono in aumento le massime invece in calo mentre i venti continueranno a soffiare per tutta la giornata di domenica lunedì non migliore come ultimo giorno del mese di agosto si chiude con la pioggia al mattino avremo piogge diffuse in particolare sui settori centro meridionali della regione a prevalente carattere di rovescio temporale fenomeni sparsi e meno intensi dal pomeriggio in graduale esaurimento per quanto riguarda le temperature dicevamo saranno comunque molto elevate queste sono quelle previste dalla protezione civile delle marche per le ore 14 potete vedere a colpo d'occhio insomma un po' il riquadro abbiamo fano pesero a 32 33 gradi insomma senigallia 31 ancona 30 eppure a monte bove sud dove di solito fa molto freddo siamo a 22 gradi quindi non c'è niente da fare anche la insomma per quanto 22 gradi insomma uno ci mette la firma al monte prata la stessa cosa insomma siamo sui monti però della nostra bella regione allora e andiamo a leggere no andiamo a salutare Tommy prima di leggere i giornali Tommy buongiorno allora oggi ma spiegami una cosa quando piove e quando ci sono i temporali adesso previsti domenica e lunedì voi che fate il bagnino state a casa o andate comunque al lavoro e magari Marco dovete stare lì i bagni di salvataggio come me devono svolgendo un pubblico servizio sempre essere a disposizione della spiaggia e quindi anche in torretta spesso e volentieri anche se ci sono condizioni meteomarine climatiche sfavorevoli anche perché ti assicuro che gli incoscienti che fanno il bagno ci sono sempre incoscienti che fanno il bagno quando c'è il temporale si si capita tantissime volte però ricordiamolo adesso metti che c'è qualcuno che veramente ha voglia di fare un po l'highlander cioè che quando soprattutto c'è attività elettrica quindi fulmine eccetera bisogna non andare in acqua vero anche sotto gli ombrelloni assolutamente vietato gli ombrelloni vengono chiaramente chiusi di defolto ma in acqua in acqua chiaramente è pericolosissimo poi anche se non dove anche se non si vedono diciamo subito ad occhio i pulmini lampi e pulmini anche se piove in maniera tranquilla è sempre sconsigliata la balneazione perché potrebbe degenerare in pochissimo tempo anche se è romantico però è poi soprattutto in dolce compagnia però questa è un'altra storia grazie tommy allora buon lavoro ci vediamo lunedì anche se piove adunque voglio vedere cosa ci fai vedere che cosa ci proporrai grazie buona buona giornata allora adesso i giornali purtroppo questa mattina apriamo con la tragedia di un incidente che si è verificato l'altra notte a pesero un ragazzino 18 anni che si è schiantato con il suo motorino ed è morto il titolo della fotonotizia la troverete sul giornale di in edicola le lacrime il giallo questo è il luogo dell'incidente con il riquadro del giovane rujon kerkuku 18 anni muore in scooter perché il giallo perché non si sa se ha fatto tutto da solo al momento pare di sì al momento lì c'è un stiamo parlando di un incidente che è venuto in un rettilineo l'interquartieri di pesaro e quindi non si sa se magari in quel momento poteva avere un po accelerato con la sua motocicletta vedete la foto nel con la moto appunto a terra al momento non ci sono testimoni ecco perché anche la polizia locale che cerca di ricostruire un po il la dinamica di questo incidente chiede chiede un po a chiunque insomma tutti se qualcuno ha visto qualche cosa oltre alle telecamere che sono installate lì vicino di farsi vivo e quindi di contattare il comando di polizia locale diciamo che questo studente del bramante è finito con il motorino contro un palo della luce dubbi sulla dinamica si indaga per verificare il coinvolgimento di altri mezzi lo scuolabus il comune la questione degli scuolabus quelli che dovranno portare a scuola gli studenti alla ripresa delle elezioni il comune trova i rinforzi problema risolto per materne elementari e medie ma per le superiori la situazione è ancora nel caos quindi in alto l'ultimo saluto l'abbraccio della città di pesaro a ciccio tausani non smettere di correre l'ultimo saluto a questa persona che evidentemente ha lasciato un segno nella città visto che ieri la chiesa del porto a pesaro era praticamente piena gremita piazzale roma cantiere e polemiche siamo a urbino poi c'è stato un altro incidente che trova spazio nella prima in prima sul carlino schianto con l'auto ferita un'intera famiglia a pochi a poche poca distanza dalla dall'interquartiere dove c'è stato appunto questo incidente mortale una macchina con dentro papà mamma e figlia ma stiamo parlando di persone comunque adulte insomma si è scontrata e una di loro la figlia 50 e passa anni adesso è ricoverata al torrete di ancora stop alla musica invece nei giovedì di via cavur dopo i controlli sempre a pesaro e poi il bollettino che vedremo tra poco nel dettaglio otto contagiati in provincia il virus dunque non molla mentre di taglio basso franca mercantini pesaresi la conoscono tutti diventa uno show spettacolo autobiografico domani in piazza poi sale l'attesa ma i posti al palace no parliamo di basket i tifosi della vl in ansia per sapere in quanti potranno entrare alle partite vediamo la prima del corriere adriatico mense scolastiche il via a tappe prima partiranno gli asili poi le elementari le reticenze dei genitori rispetto alla refezione domande in calo siamo a meno 500 iscrizioni prolungati i tempi per la richiesta del servizio a centropagine invece il corriere si occupa del project financing del nuovo ospedale di muraglia un patto da 121 milioni di euro e per quanto riguarda i test sierologici invece qui di spalla tutti d'accordo in fila i docenti marchigiani siamo partiti subito bene dice ceriscioli gli insegnanti marchigiani sono bravi e aderiscono perché sapete che è volontario il test e quindi sono in tanti già 500 ausiliari del traffico minacce sui social quelli che fanno la multa per divieti di sosta il comune denuncia tutti quelli che in questi giorni in queste settimane si sono in qualche modo dilettati a denigrare questi ausiliari del traffico soprattutto sui social network ponte fantasma dove finita la fideiussione a pesero e poi le infrastrutture sasso ferrato cagli strada da 530 milioni pensata ma già vecchia si schiata con lo scooter muore sul colpo a 18 anni il ragazzino rientrava a casa dalla sera di lavoro la mamma si sente male ricoverata all'ospedale finisce contro un palo e muore a 18 anni poi grande carica dei 150 atleti tutti a lezione da re magnini il campione di nuoto le pagine interne dicevamo e qui ancora la fotografia dell'incidente con l'immagine di questo ragazzino 18 anni poi questo schianto come dicevamo a pochi pochi metri pochi metri alla stessa ora tra l'altro a pochi chilometri di distanza dall'interquartiere in via san martino una famiglia intera di pesaresi padre e madre settantenni e la figlia di 52 anni questa famiglia è rimasta vittima di un incidente a bordo della propria auto salva la vita ma tutti e tre feriti ad avere la peggio come vi ho detto è la figlia che è stata trasportata al torrette di ancona sullo scuola bus richiamati alla pensione anche i mezzi insomma dalla pensione e ne saranno comprati sette praticamente nuovi il comune di pesaro risolve il problema del trasporto per gli alunni di materne elementari e medie ma resta comunque come dicevamo il problema per le superiori negli asili sarà misurata la temperatura ai bambini acquistate le strumentazioni necessarie mentre sulla pagina di fano del carlino tamponi forzati l'argomento di questa mattina i ragazzi autistici decida il giudice e dunque le mamme si rivolgono agli avvocati e parlano di questo test traumatizzante e anche discriminatorio per accedere ai centri stiamo verificando le modalità adottate nelle altre regioni e dunque le porteremo dai legali questa cosa dunque finisce a carte bollate soprattutto per l'obbligo di questi tamponi mensili che a cui si dovranno sottoporre questi ragazzi autistici per accedere ai centri diurni ma le mamme dei ragazzi continuano a dire di no ieri abbiamo ricevuto un messaggio di una di queste mamme che ci raccontava insomma di una scena ci descriveva una di quelle scene che insomma per un genitore fanno male tre persone a tenere ferme uno di questi ragazzini per fargli il tampone ecco insomma sono scene che fanno male dunque se c'è un'alternativa che venga attuata e per questo quando poi il dialogo diventa tra sordi è necessario usare il megafono della giustizia quindi andare in tribunale quant'altro restiamo sulla pagina di fanno perché di spalla c'è una notizia invece che riguarda un ragazzino di 13 anni si chiama giulio commerso 13 anni fanese che il 2 di settembre dopo aver superato severe selezioni tenterà di entrare nella scuola di danza più prestigiosa d'italia sapete qual è la scuola di danza più prestigiosa d'italia potete immaginarlo è la scuola che si trova all'accademia del teatro alla scala di milano e non poteva essere diversamente adesso andiamo invece a vedere la situazione nelle marche nella nostra regione per quanto riguarda il covid 19 allora innanzitutto le marche e qui andiamo a sinistra del nostro del vostro delle schermo le marche sono in controtendenza come dicevamo per quanto riguarda i test sierologici volontari 510 persone che lavorano nel settore della scuola si sono messe in fila per per farsi fare appunto questo test il governatore ceriscioli ha detto è stata capita l'importanza dell'esame per il rientro in classe e l'asur dice i risultati si avranno nelle prossime ore e qualche medico ancora purtroppo non ha il kit i test sierologici sul personale scolastico sono eseguiti dai medici di medicina generale fino ad una settimana prima che iniziano le attività didattiche a differenza del tampone questo lo ricordiamo anche per una questione di cultura personale i test sierologici servono ad individuare i soggetti che sono entrati in contatto con il virus e sono di due tipi i cosiddetti test rapidi che con una goccia di sangue prelevata dal dito stabiliscono se un soggetto ha prodotto anticorpi e quindi è entrato in contatto in qualche modo con il virus e quelli quantitativi il secondo tipo che attraverso il normale prelievo del sangue dosano in maniera specifica le quantità di anticorpi prodotti ok per le scuole invece della regione sempre dal corriere 20.000 banchi monoposto in arrivo cioè sono stati richiesti dalle scuole marchigiane per garantire l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico ma andiamo a vedere un po' qual è la situazione dei contagi allora non solo rientri dalle vacanze adesso a fare alzare la guardia sui nuovi positivi nelle marche sono anche i viaggi di ritorno dai paesi di origine come pakistan albania marocco e macedonia su 17 persone risultate positive al covid 4 sono proprio rientrate da quegli stati e una tornata invece dalla sardegna c'è una donna in terapia intensiva l'ultimo del quale abbiamo parlato era quel sessantenne fanese che possiamo dichiarare ufficialmente fuori pericolo adesso non è più ormai da diverso tempo in terapia intensiva credo che sia gli infettivi quindi insomma sta andando avanti regolarmente il suo decorso anche qui possiamo parlare di quasi di miracolo è il secondo paziente che è stato trattato a Marche Nord con la terapia del plasma iperimmune e quindi è andata bene adesso c'è una donna in terapia intensiva l'unica donna nelle marche l'unica persona in terapia nelle marche in terapia intensiva ed è passata lì perché le sue condizioni di salute si sono aggravate poi ci sono i pazienti in malattie infettive e tra questi c'è anche Francesco Merloni che è il fondatore presidente onorario di Ariston Termo Group ex parlamentare ex ministro dei lavori pubblici Merloni 94 anni è risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna con la famiglia positivi ma in quarantena domiciliare la moglie Maria Cecilia Lazzarini e il figlio Paolo ora quindi questa è la situazione quindi l'unica differenza rispetto ai giorni scorsi è che i positivi non i contagi i positivi non sono soltanto di rientro dalla Croazia dalla Grecia quindi dalla Sardegna da questi locali di vacanza ma anche da questi altri posti e quindi insomma bisognerà stare lì adesso come si dice con la testa e fare le cose per bene no didattica a distanza invece l'alberghiero di Pesaro è in rivolta alta tensione un po' in tutti gli istituti professionali perché giustamente dicono un mestiere non si impara da casa cioè chi frequenta l'alberghiero se non ha la possibilità di andare nelle cucine di imparare a cucinare eccetera eccetera o in sala se deve preparare la sala a casa per quanto possibile insomma è sempre una cosa a distanza quindi insomma diciamo che per l'apprendimento è un problema c'è una lettera di protesta con 240 firme tra studenti genitori e prof e quindi insomma come vedete siamo a due settimane dall'inizio della scuola e ancora grandi soluzioni non ci sono trovate resta poi quella più grande il nodo e lo scoglio più grande che è quello appunto dei trasporti intanto sul fronte regionale l'assessore regionale Loretta Bravi che ieri ha avuto un incontro con il governo sul caos del trasporto scolastico l'obiettivo è di recuperare il 20 per cento dei posti disponibili sui pullman mentre la pagina di Fano si occupa la seconda pagina di Fano si occupa di uno scorcio di via Cavour una piccola traversa di via Cavour che però è molto conosciuta perché andiamo a vedere sulle fotografie questa e molti sicuramente l'avranno riconosciuta in questa in questo palazzo ci sono gli ambulatori medici e quindi è abbastanza trafficata qui di fianco invece c'è la farmacia poi tanti altri negozi eccetera eccetera ora siamo in pieno centro e il giornale scrive su segnalazione evidentemente di qualcuno che ha voluto protestare in fila dal dottore tra ratti bisce e calcinacci succede in una piccola traversa di via Cavour vicino all'ex chiesa San Leonardo su cui si affacciano gli ambulatori medici e qualcuno parla e dice che insomma è un po' una vergogna l'Asur ha obbligato la proprietà a mettere delle reti così ora ci si incastrano persino i piccioni dunque di male in in peggio per quanto riguarda invece la grandinata al Mancini quindi siamo allo stadio comunale di Fano si affida il maxi appalto martedì si apriranno le buste per i lavori da oltre 600 mila euro che riguardano anche l'impianto di illuminazione ora il progetto architettonico strutturale redato dallo studio ingegneristico e geologico Diego Talozzi di Urbania prevede il ripristino della tribuna all'inizio solo per una metà che era stata dichiarata inagibile e che aveva costretto tra l'altro l'amministrazione fanese a installare in via provvisoria due tribunette in tubi innocenti soprattutto per i tifosi delle squadre avversarie e per gli sportivi fanesi della zona del prato poi c'è anche l'impianto di illuminazione vedete qui ci sono questi due impianti che ormai sono obsoleti sono vecchi e questo nuovo impianto verrà praticamente realizzato tutto da capo ex nuovo con quattro nuove torri faro e fin tanto che però non saranno ultimati i lavori resterà in funzione il vecchio impianto ora secondo quanto specificato dal coordinatore l'ingegner federico fabbrica del comune di Fano i lavori dovrebbero concludersi nella prima settimana di dicembre l'abbraccio della città di pesaro a ciccio ciccio tausani nella sua ultima corsa ieri nella chiesa del porto ci sono state appunto i funerali paolo campanelli dice tra le nuvole non si rischia vai forte come il vento l'addio tra un rombo di motore vedete come la chiesa del porto assolutamente gremita questo significa insomma che ha lasciato in qualche modo il segno andiamo urbino invece piazzale roma il nostro fiore all'occhiello il sindaco gambini fa il punto sui lavori attorno alla statua di raffaello che hanno allungato i tempi ma il risultato sarà superbo questo questa è la fotografia di questi lavori in corso piazzale roma dove che dovevano terminare entro il 31 di agosto il parco è stato ridisegnato e aiuterà a promuovere al meglio la città al via il giro d'italia dei giovani oggi urbino si riveste di rosa la festa rosa è cominciata all'ombra di palazzo ducale sono state presentate ieri le 33 squadre che parteciperanno al giro d'italia under 23 in partenza oggi d'orbino insieme al trofeo che andrà al vincitore un salto a sant'angelo in vado invece una poltrona per tre perché il 20 e 21 settembre si vota anche per eleggere il nuovo sindaco per il dopo luzzi ecco chi sono i sfidanti e tutte le persone in lista allora da sinistra emanuela galli della lista per vado francesco parri patto per sant'angelo e romina rossi le ali per vado tre schieramenti contrapposti che spezzano la tradizione delle due liste che spettacolo la vita di franca mercantini torniamo a pesaro e qui vi proponiamo un personaggio che anche i fanesi conoscono non solo i pesaresi perché l'abbiamo vista anche qui su fano tv nelle varie serate in particolare a tre ponti la commediografa pesarese mette in scena domani sera in piazza del popolo il recital l'altalena della vita ispirato alla sua autobiografia e andrà in scena domani sul palco di piazza del popolo alle 21 e 15 la sua è una vita avventurose per certi versi spettacolare la vita di franca mercantini attrice commediografa e chi più ne ha più ne metta lei in quello che sarà un racconto autobiografico in forma di recital sarà protagonista e spettatrice perché l'opera con ingresso gratuito è stata pensata sì per coinvolgere il pubblico in kaleidoscopiche emozioni ma anche per rendere omaggio ad un personaggio rinunciabile della nostra comunità della comunità di pesaro e quindi per chi può domani appuntamento alle 21 e 15 e poi c'è anche il giorno di del regista montalto giuliano montaldo che per l'ultimo giorno della mostra del nuovo cinema a pesaro interverrà da roma con presentando il suo industriale l'industriale del 2011 che chiuderà il festival un film che chiuderà appunto il festival del cinema di pesaro e credo che chiude anche la rassegna stampa di questa mattina sì per chiude la rassegna stampa di questa mattina perché il tempo a nostra disposizione è finito e allora io vi saluto vi ringrazio vi ricordo anche che ci sono degli appuntamenti ancora oggi e domani qui su Fano TV che riguardano la cultura e quindi passaggi festival di cui Fano TV è main sponsor locale allora io non so se se il nostro regista è preparato per darci qualche orario altrimenti vi invito a rimanere semplicemente sul nostro canale 17 va bene? Facciamo così Riccardo? Benissimo allora noi ci vediamo lunedì mattina con la rassegna stampa stasera c'è 7 per occhio con il magazine e le notizie più importanti della settimana cioè dovrebbero essere tutti e due alle 7 dalle 7 alle 8 esatto sia oggi che domani stasera alle 19 allora diretta 19 20 19 20 sia oggi che domani e poi dopo il telegiornale dopo il magazine quindi alle 21 dopo le repliche magari delle scorse giornate certamente poi le repliche anche delle scorse giornate per chi non avesse potuto seguire la diretta insomma abbiamo un bel palinsesto anche per l'estate che si sta per concludere tra poco invece per chi ci segue in diretta in collegamento con Loreto dalla Santa Casa la Messa del Mattino Buona giornata